L'estate senza stranieri in vacanze in Puglia costa un miliardo al sistema turistico regionale per le mancate spese nell'alloggio, nell'alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souvenir, mentre il clima anomalo con la finta primavera spinge i pranzi in campagna per i cittadini residenti in Puglia, dove ha riaperto appena il 20% degli agriturismi che si occupano di ristorazione. È quanto emerge dall'analisi della Col Diretti su DatiBanchItalia. Servono dunque misure coerenti e ristori immediati a un piano nazionale, aggiunge Col Diretti, che mette in campo tutte le azioni necessarie per non far chiudere per sempre attività come gli agriturismi che rappresentano un modello di turismo sostenibile, grazie ai primati regionali sul piano ambientale ed enogastronomico. È evidente la perdita secca subita nel 2020 dalle masserie della Puglia, che hanno praticamente azzerato gli arrivi di tutti i turisti stranieri e annullato le prenotazioni di italiani e del turismo di prossimità nei mesi di lockdown e con le nuove restrizioni si profila uno scenario a tinte fosche anche per Pasqua e per la stagione estiva targata 2021. La Puglia conclude la Col Diretti e fortemente dipendente dall'estero per il flusso turistico con ben 1,5 milioni di arrivi di viaggiatori stranieri che la scorsa estate hanno dovuto rinunciare a venire in Puglia per effetto delle limitazioni e alle preoccupazioni per la diffusione del contagio.